Cari amiche, nuovo podcast! Oggi andiamo a vedere i gilet. I gilet sono molto comodi in questo periodo perché sopra ha una camicia oppure sopra una lupetta o una maglia in cotone sono comodissimi. Io ne ho realizzati molti, ne ho scelti 5 per voi con filati diversi e colori diversi. Alla domanda quando lavori ti stanchi tutta la settimana a fare l'uncinetto, assolutamente no, questo me l'avete chiesto in tante, assolutamente. Allora, l'uncinetto rilassa tantissimo, per cui quando andiamo a prendere un gomitolo che ci piace tanto, il colore scelto e andiamo a lavorare un qualcosa che noi vogliamo realizzare, che poi lo andiamo a indossare, è una grande soddisfazione. Per cui tutto quello che realizzo, ovviamente lo realizzo per me, mi scelgo il modello, scelgo il filato, il colore che mi piace, per cui c'è sempre una grande soddisfazione. Infatti quando si lavora l'uncinetto, insomma, ci perdiamo un pochino, no? Allora, se dobbiamo fare un qualcosa di complicato, è ovvio che dobbiamo all'inizio pensare a come deve essere, perché diciamo tutta la preparazione scoccia un pochino. Molto di voi me l'avete detto che la preparazione, per quanto riguarda anche per, ecco, come questo, questo è un cardigan appunto brioche con una bellissima treccia davanti, non è che ci vuole tantissimo per realizzarlo, però, insomma, ci vuole un pochino di accortezza per vedere, insomma, quanto deve essere lungo, la misura, la circonferenza, se è oversize, insomma, tante cose. Ma quando conosciamo il nostro corpo, che dobbiamo andare a realizzare per noi, è facilissimo, insomma, non dobbiamo prendere continuamente le misure, le conosciamo e da lì lo sviluppiamo. Per cui, realizzate, la prima cosa che vi dico di realizzare, visto che me lo chiedete in tanti, una sciarpa con un punto semplice, scegliete un filato coccoloso, di quelli proprio morbidi, 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 un colore che vi piace tanto e andate avanti. Vedete che vi rilassate, perché il punto che si ripete, comunque, vi lascia proprio, vi fa rilassare, questa è una cosa che mi chiedete, mai fare l'uncinetto con lo stress, perché se fate l'uncinetto con lo stress non serve assolutamente fare l'uncinetto. Allora, quello che mi raccomando, scegliete un filato, fate quello che desiderate e vi dovete assolutamente divertire, non deve essere uno stress. Allora, andiamo a vedere adesso i girei che sono, l'ho realizzati veramente super super coccolosi, se sentite le voci sotto che rimbombano, oggi non sono sola. Allora, andiamo a vedere il primo, il primo che ho realizzato, diciamola, questo l'ho fatto l'anno scorso, mi piace tantissimo, è diverso, il lungo già ve l'ho fatto vedere diverse volte, perché mi chiedete sempre informazioni per il filato boa. Il filato boa è un filato pelliccioso, morbido, morbidissimo, e molte mi dite, ma poi quando vado a lavorare, ma lo vedo il punto per andare a realizzare anche solo una maglia alta, una mezza maglia alta, assolutamente sì, andate a lavorare, non avete il problema, a parte col tatto si vede, tranquillamente inserite l'uncinetto sul punto che dovete lavorare e lo lavorate con tranquillità. Poi ci sono anche tanti colori, questo filato di scanto lo vede a confezione a 500 grammi, vi ricordo che fino al 30 di novembre c'è lo sconto su tutto il catalogo del 30%, per cui è tantissimo, approfittate se volete, insomma, dei filati che desideravate e non l'avete presi, insomma, potete decidere adesso di scegliere quello che preferite, perché è su tutto il catalogo. Allora, questo è una lavorazione a pannello, le cuciture non si vedono, consiglio sempre alle principianti, perché non si vedono difetti, voi lavorate difetti, non ce ne sono, ho lavorato anche un cappello con questo filato. Andiamo a vedere il secondo, il secondo ricorda un po' il punto, il punto stella no, però ricorda delle stelle, questo è un gilet molto molto forato, ma con una lana molto grossa, abbastanza grande, è il tuya, che mi piace tantissimo questo filato, mi piace veramente tanto, è leggero, ma nello stesso tempo tiene caldo, perché ho deciso di andare a lavorare, non un gilet pesantissimo, ma andare a lavorare un gilet che sia molto forato, ho messo sopra una capicia o una maglia abbastanza fina di quelle aderenti, appoggiamo sopra, mettiamo, indossiamo questo gilet ed è perfetto, possiamo realizzarlo con i spacchi laterali, è facile, una lavorazione a pannello, noi dobbiamo fare quante cose difficili, basta lavorare quello che ci piace di più, una lavorazione a pannello, prendiamo la misura della nostra circonferenza, se lo vogliamo leggermente più morbido, aumentiamo dal 10-20% della misura della nostra circonferenza o del seno dei fianchi abbiamo fatto, lavoriamo al pannello, quando siamo arrivati alla lunghezza che ci piace di più, andiamo a realizzare le cusciture alle spalle e andiamo a realizzare le cusciture laterali, facile, facile, un altro gilet direi super super coccoloso, in questo periodo utilizzo molto questa parola perché questi filati molto vaporosi, coccolosi, questo è il gilet, me lo vi dico, akira, un gilet che ho realizzato, se non sbaglio a tre colori, adesso mi devo un attimo ricordare, ma a tre colori, un arancio, un marrone, insomma adesso vi metto la foto per cui lo vedete, è facilissimo, appunto a V con lo scollo a V, io già ve l'avevo presentato, questo, ma diciamo la vostra, la vostra domanda, la vostra domanda a questo gilet, ma lo Anna, utilizzo questo, faccio questo gilet, sono abbastanza morbida come misura e mi può ingrossare la circonferenza del seno, dei fianchi, beh essendo un filato abbastanza vaporoso potrebbe, ecco diciamo che a me non è, non mi rende molto snella perché ovviamente è bello vaporoso, poi dipende da quello come lo indossiamo e che modello facciamo, alla tipo, che se abbiamo, diciamo i fianchi più morbidi, facciamo gli spacchetti alati in maniera che scende senza poi andare, diciamo, a coprire la parte più morbida, la parte del seno, a me il punto è il seno, io l'ho reso leggermente più corto, non troppo lungo, e con uno scollo a V per dare un pochino più di, diciamo, di apertura davanti, ecco, per cui anche il taglio, diciamo, scegliere il modello facilita in base a come lo vogliamo poi indossare, se noi abbiamo un gilet che abbiamo già portato con un filato abbastanza vaporoso, prendiamo quel tipo di modello, prendiamo le misure, visto che è una lavorazione a pannello, andiamo a prendere le misure e andiamo a sviluppare il nostro gilet facile, io l'ho scelto un po', un po' così scherzoso, con tre colori, facile da fare, velocissimo, e questi sono, io i gilet li utilizzo tantissimo, proprio veramente tanto come i cardica, come voi sapete, allora, andiamo a vedere un altro, questo è il gilet lia, sì, il gilet lia, realizzato a punto brioche, traforato, perché possiamo lavorare anche il punto brioche, anche questo è un punto brioche, come vedete le righe, noi andiamo a lavorare ovviamente il pannello normale, ma quando andiamo poi a montare dobbiamo girarlo in verticale, che le righe devono risultare in verticale, dobbiamo ricordarci che la V deve stare in questa posizione, ma non nella V in giù, ecco, allora, è bello, è veloce, questo ho utilizzato il filato Enricchi, ho scelto il verde, anche se ho lavorato tantissimo Enricchi, questo filato mi è piaciuto tantissimo, bello da lavorare, morbidissimo, penso di averlo messo veramente il lavatrice nel programma lana, mi raccomando, programma lana, 30 gradi, non di più, e poi con un cucino di ammorbidente, comunque non è 100%, è un misto lana, per cui ce lo possiamo mettere tranquillamente, è veramente spettacolare, non ha fatto un pallino, io penso che sono due anni che lo metto, e lo metto sempre, perché io adoro il gilet, metto una magliettina, un napolo, oppure un, no, quanto napolo, no, un lupetto, un lupetto in cotone elasticizzata, o un body, poi metto sopra il gilet, fatto, e mi ritrovo comodissima, comoda comoda, facile la lavorazione, la rifinitura, è uno scollo a barchetta, con la rifinitura, rifinitura abbastanza larga, ho fatto le maniche, non è un gilet fatto, diciamo, con le maniche sette, questo è molto largo, molto largo, comodo, spiritoso, e lo possiamo fare in tutti i colori, possiamo anche scegliere un altro tipo di lana, non c'è assolutamente problema, andiamo a vedere l'ultimo, il gilet Natalie, questo è stato, perché l'ho messo questo? Perché è uno dei primi che ho realizzato, è con il punto Chevron, mi è piaciuto tanto, con dei trafori, un fiorellino di lato, a collo alto, perché non sopporto molto, se avete notato, tutti i miei ommaglioni, io non li realizzo a collo alto, perché non li sopporto, posso mettere, come ho detto prima, una lupetta, un cotone, l'assicizzata, ma metto poco, troppo stretto sul collo, e per cui qui ho un accenno, però ho fatto a barchetta, che mi dia un po', un pochino più di aria, e mi è piaciuto tantissimo, veramente, questo filato, credo che sia, se non sbaglio, terminato, ma si può sostituire con armonia, si può, con, ci sono tantissimi filati, di filati discount, che potete sostituire, se vi piace, insomma, un filato un po' peloso, veramente molto bello, qui aveva una grossa quantità di alpaca, ma ci sono tanti altri filati che potete sostituire, con una grossa quantità di alpaca, allora, io vi ho fatto una carrellata di gire, perché i gire sono belli anche a regalare, non ci vuole proprio una grande, diciamo, la taglia precisa, per cui, già che sapete all'incirca, se è una S, se è una M, se è una L, non c'è nessun problema, comunque potete andare a prendere le misure e svilupparlo tranquillamente, allora, noi ci vediamo, io vi ringrazio, ci vediamo con i prossimi video, lunedì e venerdì, di mercoledì podcast, di domenica e martedì, facciamo sempre delle live che possiamo parlare insieme e condividere la nostra passione, vi saluto e ci vediamo, un grande bacio, ai prossimi video e ci vediamo venerdì con un tutorial, baci!